Kanyaman chi è la nuova fidanzata? Vita privata dell'attore. Tanto bello quanto riservato, Kanyaman ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, soprattutto dopo il grande successo raggiunto in Europa con le dizzi turche. Classe 1989, è diventato una star non solo in Italia ma anche in altri paesi come la Spagna, dove è altrettanto amato e seguito. In passato si è detto tutto e il contrario di tutto della sua love story più famosa, ovvero quella condiletta leotta. E per questo col tempo Yaman ha imparato ad essere più discreto sulle sue faccende di cuore. Chi è la nuova fidanzata di Kanyaman? Ad oggi Kanyaman risulta single. Nessuna donna importante nella vita del sex symbol turco, che però non ha mai nascosto di sognare una famiglia tutta sua. Nell'estate 2023 si è vociferato di una liaison con Giorgia Colombo, influencer e interior designer milanese. Ma è stato lo stesso Cannes a smentire tutto, scagliandosi anche contro i più pettegoli. Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate. Ma non è vero. Mai stato. Quando ne avevo una vera avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta. Ora che ho fatto fatica per allontanarmi dal mondo del gossip, create fidanzate non vere e volete far credere che lo siano. Vi assicuro che se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c'entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze, ha aggiunto. Prima di Giorgia si è parlato di un flirt con Francesca Del Fa, l'attrice che presta il volto a Irene nella soap opera della Rai Il Paradiso delle Signore. I due sono stati pizzicati insieme ad un evento cinematografico, ma è nata solo una bella amicizia e nulla più, come rivelato dalla Del Fa. Tra me e Cannes non c'è stato nulla di romantico, è nata solo una simpatia, un'amicizia, ha spiegato. Tutti gli amori di Cannes Yaman. Cannes Yaman è solo da qualche tempo, ma in passato ha vissuto storie importanti, come ad esempio quella con l'attrice e modella turca Bestemsu Özdemir, durata due anni con tanto di convivenza. Poi la rottura, per motivi mai chiariti del tutto, anche se qualcuno ha insinuato un tradimento da parte dell'attore. L'altra liaison che ha segnato la vita privata di Cannes Yaman è stata sicuramente quella con Diletta Leotta, che ha fatto chiacchierare parecchio nel 2021, ma è durata a malapena otto mesi, nonostante una romantica proposta di matrimonio alla conduttrice siciliana. Molti hanno accusato Cannes e Diletta di aver finto un interesse per visibilità, ma i diretti interessati hanno sempre smentito. A Verissimo Diletta Leotta ha rivelato i motivi che l'hanno allontanata da Cannes Yaman. È stata infatti la presentatrice a mollare l'attore dopo un periodo di passione bollente. Con Cannes è stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Per noi è stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono innamorati. Abbiamo vissuto una passione enorme, un mix esplosivo tra una siciliana e un turco. Ed è stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso è fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c'è la vita reale dietro lo schermo. E quella lì era difficile da tenere intima. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però, ecco, dividere la persona dal personaggio a volte era difficile. Dividere la persona dal personaggio era difficile. Un'altra donna importante nella vita di Cannes Yaman è stata sicuramente Demet Ozdemir, sua collega nella fortunata serie tv dei Dreamer. Per un lungo periodo si è parlato di una tresca segreta. Nel 2019 i due sono stati avvistati più volte insieme dai paparazzi, ma hanno preferito non proferire alcuna parola sulla vicenda. Né una conferma, né una smentita. Hanno però ammesso di volersi molto bene e di stimarsi a vicenda. Grazie a tutti.